Forse poter dire sono selezionata, sono prescelta, a volte ci si sente addosso uno sguardo buono anche in questo modo qui, no? E da parte del padrone di casa probabilmente si trattava sia del tentativo in qualche modo di circondarsi di ragazze che presumeva di poter irretire più facilmente, ma credo che non fosse solo questo e considererei anche quanta magnificenza e quanta megalomania e onnipotenza potesse restituirgli l'idea di circondarsi di ragazze bellissime, giovanissime, come se a sua volta lui fosse il prescelto che si poteva permettere di avere intorno persone diverse da quelle che normalmente si trovano tutte insieme in una stanza.